Addio gambe affusolate e lunghe chiome fluenti. I concorsi di bellezza vengono banditi dal comune di San Benedetto. Ieri sera in consiglio è stata approvata la mozione presentata dal consigliere di rifondazione comunista Daniele Primavera, che dà indirizzo alla Giunta di non erogare contributi a manifestazioni che mirino a valorizzare l'aspetto fisico. Il definitivo addio a Miss Italia e colleghe non è andato giù alla minoranza. Approvando questa mozione, ha subito commentato Bruno Gabrielli di Forza Italia, la maggioranza ha deciso di precludere alla città qualsiasi opportunità di ospitare delle manifestazioni di ampio risultato mediatico, utili alla promozione turistica del territorio. Per Forlì, questa mozione è illiberale e proibizionista, un autentico autogol della maggioranza. Il consigliere Vignoli la definisce talebana, mentre per Tassotti è intempestiva e fuori luogo. Approvate anche alcune modifiche al regolamento per l'uso della piscina comunale Primo Gregori, regolamento che stabilisce i tempi di utilizzo degli spazi acqua da dare in concessione alle tre società sanbenedettesi, garantendo più punteggi alle due società, Cogese e Delfinia, che programmano un'attività natatoria e agonistica voluta dalla Federazione Italiana Nuoto rispetto alle attività del settore Supermaster, di cui è ricco il pool. Passa anche la mozione presentata dal consigliere De Verdi Marinucci, che chiede alla Giunta immediati provvedimenti, al fine di rispettare gli impegni sottoscritti a tutti i livelli istituzionali per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, promuovendo, nel contempo, una campagna di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell'utilizzo dei trasporti pubblici, della mobilità sostenibile, del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili.